Buongiorno, grazie Elisabetta, buongiorno a tutti e benvenuti a questo ultimo appuntamento del nostro programma webinar del martedì, ultimo prima della sospensione estiva perché poi riprenderemo a settembre. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro sito che è www.crisifinanziari.fondazioneifel.it, lo potete raggiungere anche dal sito IFEL cliccando sull'icona del progetto che trovate in home page. In questo sito a breve pubblicheremo un nuovo programma formativo autunnale, ma intanto potrete anche rivedere tutte le registrazioni dei webinar fatti fino adesso, troverete le slide, i materiali didattici e anche le risposte alle domande che sono state fatte appunto nel corso di tutti gli incontri. C'è anche la nostra mail a cui potete anche scrivere eventualmente se avete altre domande su webinar passati o su quello di oggi, nel caso oggi poi ovviamente vedremo di rispondere a tutto e semmai pubblicheremo poi le risposte sempre su questo sito. Ricordo rapidamente che nel sito troverete anche maggiori informazioni relative al progetto più ampio in cui si colloca questo programma formativo, ossia come ha detto la collega il progetto IFEL dedicato agli interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni. Un progetto che propone un programma di azioni ed interventi proprio sul tema delle problematiche finanziarie e che oltre appunto alle attività formative come quella di oggi propone un'attività importante di supporto diretto a cui gli enti in difficoltà possono accedere e presentare la propria situazione per richiedere un'attivazione di una consulenza specifica che è gratuita per l'ente a carico appunto di questo progetto e a supporto di un percorso di risanamento finanziario del comune. C'è un form che si può compilare direttamente online, le richieste vengono valutate da una commissione di esperti e poi viene risposto appunto data risposta di accoglimento o meno di questa richiesta e avviato questo supporto tramite esperti che collaborano con il progetto. Ringrazio anch'io il dottor Bambilla che torna oggi con noi per approfondire un tema importante che riveste una rilevanza centrale per i comuni sia soprattutto per quelli che non sono dotati di uffici legali interni ma insomma un po' per tutti i comuni che è quello dell'affidamento dei servizi legali da parte delle pubbliche amministrazioni analizzando appunto il vigente contesto normativo su questo tema. Non rubo anch'io ulteriore tempo, auguro a tutti un buon webinar e per appunto per le domande vediamo se rispondere strada facendo oppure se ci teniamo qualche minuto alla fine comunque vediamo un po' durante questo nostro incontro. Grazie a tutti, grazie Paolo, buon webinar a tutti. Grazie Foscara, grazie mille a Elisabetta e all'organizzazione, vedo che qualcuno ha segnalato un audio molto basso, spero che si risolva il problema. Io comunque inizio in modo tale che... Sì, tranquillamente non dipende da lei che purtroppo è la rete, può capitare che sia la rete dei partecipanti e quindi invito in questo senso tutti i partecipanti a chiudere tutte quelle app e tutti quei programmi che incidono sulla rete, soprattutto la posta elettronica. Grazie, scusi avvocato. No, ci mancherebbe. Allora, un breve inquadramento iniziale. Perché abbiamo scelto questa tematica? In parte l'architetto Porchia, Foscara, ce l'ha già detto e cioè ha una rilevanza strategica per tutti i comuni che effettivamente non sono dotati di avvocati. Quelli che, come sapete, magari sono dotati di una vocatura interna, comunque possono scegliere per ragioni eccezionali, derogatorie, anche di rivolgersi a professionisti esterni, ma al di là di questo il tema riveste una considerazione generale. Perché? Perché quando parliamo di interventi supporto delle crisi finanziarie, quindi parliamo del budget delle amministrazioni comunali, i comuni non possono non tenere in considerazione quello che devono spendere per l'assistenza legale. L'assistenza legale che è strutturata sia sul piano delle eventuali consulenze da periperire sul mercato attraverso appunto degli incarichi ad hoc di supporto nei vari uffici, laddove non ne abbiano a disposizione internamente, oppure molto più semplicemente e probabilmente molto più quotidianamente sia la situazione nella quale i comuni invece devono conferire incarichi di difesa giudiziale nei confronti di altri privati o di altre amministrazioni. E per fare questo devono avere un quadro di riferimento, perché poi l'impatto ovviamente a livello economico qui è il legame tra il tema della crisi finanziaria e il tema degli carichi legali, perché ovviamente le crisi finanziarie spesso noi lo vediamo quando gli enti locali quando gli enti locali sono interessati da crisi finanziarie, pesa spesso in maniera non indifferente anche l'eventuale costo del contenzioso, costo che viene sia dagli incarichi conferiti dagli enti locali, sia dalle spese giudiziarie, quindi gli enti locali, i comuni sono magari condannati a versare a privati. Quindi è tutto un sistema che inevitabilmente va a impattare sui comuni. In questa ottica quindi si inquadra l'incontro di oggi, incontro che cercherò di strutturare nel modo più chiaro possibile, anche se non nascondo che effettivamente la situazione e la vicenda degli incarichi legali ad oggi è molto complicata, complicata sia da una evoluzione normativa veramente schizofrenica, sia da una evoluzione giurisprudenziale non coerente, non del tutto lineare. Ad oggi si leggono ancora delle situazioni, si vedono ancora delle situazioni nelle quali si rintraccia una posizione giurisprudenziale non del tutto conforme, in alcuni casi addirittura rettamente difforme. C'è una sentenza recente che dopo vedremo al termine del Consiglio di Stato, che paradossalmente supera una serie di problemi, ma ne pone tanti altri. Nel frattempo, in un quadro generale così complicato, sono intervenute negli ultimi mesi, proprio nel 2023, due grammi di riforme che adesso andremo a vedere, che sono rappresentate da un lato dalla legge sull'eco compenso per i professionisti, che va a chiudere una discussione, o meglio a tamponare una discussione che si è posta negli ultimi anni, e dall'altro lato ovviamente il nuovo codice dei contatti pubblici, che inevitabilmente incide sulla disciplina. Questo è un po' per farvi capire quanto sia attuale il contesto, ma l'attualità deve necessariamente passare per una riflessione sull'evoluzione normativa, quindi dobbiamo necessariamente andare un po' a scavare nel tempo. Ovviamente l'evoluzione della disciplina sulla remunerazione degli avvocati inevitabilmente è un tema che va a toccare normative risalenti. Per farlo velocemente, per dare un inquadramento, dobbiamo partire inevitabilmente dai primi germi della normativa in materia, che sono rappresentati dal reggio decreto legge 27 novembre 1923 numero 1578, che conteneva l'ordinamento delle professioni dell'avvocato e di procuratore, una normativa generale, che in realtà non andava a specificare il tema degli onorari, ma dava delle indicazioni generali, soprattutto nel caso di contestazione giudiziale, quindi è in quel caso che si poneva il problema degli onorari, e onorari che lo stesso termine, onorari degli avvocati, dimostra l'origine particolare del corrispettivo della prestazione. Infatti, se ci pensate, la prestazione dell'avvocato è sempre stata concepita come un orario, quindi come qualche cosa che non andava ad essere parametrato sul valore dell'attività, era un vantaggio, un beneficio economico, un qualche cosa che andava a valorizzare un'attività fatta per conto di un professionista che la svolgeva anche per ragioni di interesse pubblico, di funzione pubblica, che era la valutazione, la valutazione del ruolo dell'avvocato, del difensore di un privato o di una pubblica amministrazione. Quindi, in questa ottica, l'idea dell'onorario assume una prospettiva molto particolare ed è uno dei motivi per i quali adesso discutiamo spesso delle prestazioni e della quantificazione delle prestazioni del professionista. Bene, il reggio decreto legge del 33 viene integrato, sostituito parzialmente, dal decreto legislativo luogo tenenziale 23 novembre 1944 numero 382, anche in questo, ovviamente non contiene norme specifiche sugli onorari degli avvocati, ma dà un'indicazione generale della configurazione della struttura degli ordini professionali. Il tema che si pone, però, è legato ad un unico punto, cioè che l'onorario degli avvocati deve essere determinato in base a criteri che devono essere definiti dal Consiglio nazionale forense e devono essere approvati dal Ministero della Giustizia ogni due anni, salvo un patto speciale. Questa è l'indicazione generale che ci viene. Quindi, gli onorari degli avvocati vengono concettualmente proposti dal Consiglio nazionale forense, ma vengono approvati dal Ministero, dando questo una valenza pubblicistica, che ha maggior ragione all'attività e alla prestazione dell'avvocato. Si lega, vedete, il tema dell'onorario, il tema non di un corrispettivo specifico per un'attività prestata. Bene, in questo quadro è necessario però andare a verificare quale sia la prospettiva della normativa più specifica per quanto riguarda gli onorari. E il tema viene posto in primo luogo dalla legge 794 del 1942 in materia civile, che va proprio ad identificare gli onorari in materia civile. Avrà come Pandan la legge 536 del 1949 in materia penale, ma è soprattutto la prima, la legge 794, che fissa all'articolo 24 un principio generale, un principio che avrà una valenza ultradecennale, perché verrà abrogato solamente nel 2006 con i decreti Bersani. Che cosa prevedeva l'articolo 24? Che gli onorari ai diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili e ogni convenzione contraria è nulla. Quindi il principio generale era la previsione dell'onorario stabilita nelle tariffe, essendo a maggior ragione approvata dal Ministero della Giustizia, è assolutamente inderogabile. Dove vi sia una diversa pattuizione tra l'avvocato e il singolo privato, questa pattuizione deve essere considerata nulla. La normativa della legge 794 viene col tempo superata attraverso un'integrazione della legge 1051 del 57 per l'interia civile e alcune modifiche intervenute, ma il principio dell'indegurabilità degli onorari stabiliti dal CNF e approvati dal Ministero della Giustizia rimane ferma per oltre 10 anni, per oltre 50 anni. Questo sistema viene messo in crisi nel 2006. Nel 2006 interviene il decreto Bersani che introduce due modifiche soprattutto centrali. La prima modifica è ovviamente l'abolizione delle tariffe fisse o minime e il divieto di patruire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Quindi con il decreto Bersani viene definitivamente superato il tema dell'indegurabilità delle tariffe minime. Questo è un primo portato della riforma Bersani. Cosa interessante da notare, interessante perché vedremo che impatto aveva avuto a suo tempo a livello mediatico, perché la norma esordiva del decreto Bersani, l'articolo 2 esordiva in questo modo, dicendo in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e quello di libertà di circolazione delle persone e servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data in entrata in vigore sono abolite le tariffe. Quindi la prospettiva del decreto Bersani era una prospettiva che penso immaginerete tutti quanti di libera concorrenza, libera circolazione delle persone, maggiore possibilità per gli utenti di avere un mercato più libero, più dinamico e anche più tutelativo per i propri diritti. Nel momento in cui si può contrattare una tariffa, chiaramente è tutto molto più facile. A suo tempo vennero pubblicati diversi articoli di studiosi del diritto amministrativo che invece vedevano questa abolizione al di là dell'interesse ovviamente di parte, sendo avvocati, però fornivano una valutazione molto negativa dell'impatto di questa previsione, perché la logica di questa previsione, se qualcuno si ricorda, era quella di stimolare il mercato libera concorrenza, soprattutto per consentire ai giovani di poter entrare più facilmente nel mercato. Se chi lavora nella pubblica amministrazione poteva avere la percezione in questo senso che invece di dare il carico al solito legale di fiducia dell'amministrazione, che magari era ultra sessantenne, poteva teoricamente finalmente darlo anche a un avvocato più giovane che costava meno, eccetera, eccetera. Ovviamente a livello generale non è stata questa la conseguenza, la conseguenza è stato un abbassamento generale delle tariffe, un grandissimo caos. in realtà i primi a essere pregiudicati da questa normativa sono stati proprio i giovani, perché chiaramente nel momento in cui gli avvocati più esperti hanno dovuto abbassare, necessariamente adeguarsi alla liberalizzazione delle tariffe, hanno dovuto abbassarle, quindi a sua volta e a cascata gli avvocati più giovani sono rimasti incastrati in una logica che non ha assolutamente valorizzato le loro prestazioni, ma paradossalmente li ha maggiormente pregiudicati. Sono studi che sono stati fatti dal CNF e da altri istituti che hanno evidenziato questa situazione paradossale. Però il primo portato del decreto Bersani era questo, il secondo era la previsione dell'obbligo della forma scritta Substantiam per la predisposizione dei contratti dei compensi professionali. In questo l'intervento che veniva fatto dal decreto Bersani era circoscritto, era veicolato sull'articolo 2233 del Codice Civile, perché è importante, è il parametro di riferimento e poi lo vedremo per quanto ci interessa. Tutti questi discorsi che sto facendo forniscono una cornice normativa che vi servirà per capire quali sono i problemi di base che sono stati poi evidenziati anche dalla giustizia amministrativa con riferimento al rapporto tra pubblica amministrazione e professionisti e avvocati nel conferimento degli incarichi legali. Quindi decreto Bersani, eliminazione delle tariffe minime, introduzione dell'obbligo della forma scritta Substantiam che incide sull'articolo 2333 del Codice Civile il quale prevede che il compenso se non è convenuto dalle parti non può essere determinato secondo le tariffe usi e determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale cui il professionista appartiene. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e del coro della professione e sono nulli, questa è la modifica del Bersani, se non redatti in forma scritta e fatti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. La logica di questa norma va a inserirsi ovviamente in una cornice più ampia, l'idea della prestazione professionale che deve avere un quadro, dal punto di vista retributivo, un quadro certo per il cliente, quindi in questo caso per l'amministrazione, anche se ovviamente per l'amministrazione la necessità dell'obbligo in forma scritta del contratto ovviamente ha radici più generali, ma la logica è data dal fatto che è necessario che il privato, che il cliente abbia una consapevolezza di quale sia effettivamente la tariffa che deve essere corrisposta. Passa qualche anno, nel frattempo vengono effettivamente metabolizzati progressivamente le previsioni del decreto Bersani, nel 2012 il decreto legge numero 1 introduce una ulteriore previsione. Perché? Perché nel frattempo il tema delle tariffe professionali ha avuto un ulteriore impatto e cioè la necessità di capire come l'abolizione delle tariffe professionali potesse incidere a livello di liquidazione giudiziale. Caso molto semplice, se un privato andava dall'avvocato e l'avvocato gli stabiliva delle tariffe, non c'era accordo, non venivano pagate le tariffe, il problema era che l'avvocato si rivolgeva al giudice o viceversa il privato andava a contestare la richiesta svolta da parte dell'avvocato, si sollevava un giudizio su questo, il problema è che il giudice non aveva possibilità di capire che tipo di parametri applicare, anche perché gli ultimi parametri introdotti erano ancora risalenti al 94. Quindi l'idea del decreto Cresce Italia, del DL 1 del 2012, era quello di introdurre i parametri ministeriali da considerarsi solo in caso di liquidazione giudiziale. Infatti l'articolo 9 del DL 1 del 2012 esordisce, ribadendo, sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, chiaramente va oltre il tema delle professioni legali, ferma restando l'abrogazione del 2,1, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante e per quanto riguarda ovviamente le tariffe professionali con il decreto del ministero della giustizia. Questo è il quadro cui ci troviamo di fronte nel 2012. Nel 2012 però subentra anche la riforma dell'ordinamento professionale forense, quale ovviamente recepisce anche tutte le previsioni che sono state introdotte nel 2012 e prima ancora nel decreto Bersani. L'articolo 13 della legge 247 del 2012 infatti fissa alcuni principi generali, ad esempio la possibilità che l'incarico svolto sia gratuito, tema su cui c'era stato un grandissimo dibattito e lo vedremo che è un dibattito che tuttora è costante proprio con riferimento alla possibilità della gratuità della prestazione da parte dell'avvocato in favore di una pubblica amministrazione, perché il tema che si poneva e che era stato sollevato e specificato anche da una serie di autorevoli e studiosi era dato dal fatto che in materia di diritto del lavoro soprattutto è dato dal fatto che effettivamente un professionista può anche decidere di non essere pagato perché di per sé il corrispettivo dell'incarico non viene da un punto di vista economico, ma viene dal fatto del prestigio dell'avere difeso una determinata persona. Pensate ai casi di giustizia che più sono esposti mediaticamente in quell'ipotesi, l'avvocato spesso al di là della riproduzione professionale che può richiedere, ovviamente ha una pubblicità indiretta dal fatto di avere difeso un determinato cliente a maggior ragione se poi ad esempio riesce a vincere la causa. A quel punto chiaramente la sua, la cassa di risonanza mediatica che riesce a ottenere da quell'incarico è tale per cui la ritribuzione non è tanto quella che ti percepisce dal cliente quanto il ritorno d'immagine che ha dall'avere svolto quella difesa. Spesso sono situazioni un po' ovviamente difficili, un po' particolari come le difese penali, però il principio di base è questo e questo principio viene ricepito anche nella legge professionale che ricepisce le ulteriori previsioni del già vista del compenso standard professionista e patruita di regola per iscritto al lato del conferimento dell'incarico professionale. La patruzione dei compensi è libera, quindi vedete si ribadisce la prospettiva ormai della normativa. Il professionista è tenuto nel rispetto del principio di trasparenza a rendere noto al cliente a livello della complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli onini inipotezzabili, eccetera, eccetera. Quindi è richiesta di altri si è tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale e la prevedibile misura del costo della prestazione distinguendo oneri, spese, profetari e compenso professionale. Poi viene aggiunta l'ulteriore previsione, i parametri sono indicati nel decreto emanato dall'amministratore della giustizia su proposta del CNF ogni due anni. Quindi vedete l'ultima previsione, in realtà non fa altro che ribadire una previsione che era presente addirittura nella legge del 1933. Questo è il quadro fornito dalla legge professionale, per cui anche al di là del vostro ruolo di amministratori, se andate, se avete bisogno, toccando ferro di un avvocato, sapete che queste sono le regole, sono il contesto di riferimento che vi deve orientare nella scelta del professionista, che quindi vi deve dare delle indicazioni chiare anche sul compenso, che spesso è uno dei problemi principali dell'avvocato, perché si parte da una situazione che spesso è difficile riuscire a capire verso che orizzonti potrà propendere, per cui ci sono delle situazioni nelle quali, ad esempio, una determinata situazione, a seconda degli eventi, a seconda delle complessità, potrebbe diventare particolarmente complessa, portare addirittura a giudizio, oppure limitarsi ad un mero incarico di consulenza, magari ridotto anche dal punto di vista temporale, quindi anche il compenso è parametrato su questo punto di vista. Perché vi dico questo? Non perché voglia accaparrarvi come clienti, bensì per capire anche poi qual è il problema laddove invece si tratti di avere a che fare, cioè laddove un avvocato debba avere a che fare invece con dei grandi player del mercato, come possono essere le pubbliche amministrazioni, dove è il cliente ad imporre una serie di condizioni, è il cliente ad avere la conoscenza generale del possibile iter di un contenzioso o di una consulenza. Voi se vi ponete nei panni, ponendovi nei panni dei amministratori, sapete bene se avete fornito degli incarichi legali a determinati avvocati, sapete che nel dialogare con gli avvocati, soprattutto se in tema di consulenze, il quadro generale operativo spesso è più a pannaggio vostro che non del legale, che vi deve fornire un supporto appunto in termini giuridici, ma il contesto di riferimento lo conoscete spesso meglio voi, laddove invece nel caso di Contenzioso, paradossalmente, l'avvocato vi può fornire un aiuto maggiore in ambito processuale, ma sempre il contesto fattuale spesso è più conosciuto dall'amministrazione che non dal singolo professionista. Lì sta anche la differenza nel fatto che nel momento in cui l'amministrazione va a scegliersi un legale, il legale può orientare l'operato della pubblica amministrazione, ma è molto più difficile a dare applicazione che in realtà nell'ottica attuale non esiste l'applicazione di queste dinamiche legate alla previsione circa l'esito della causa, circa gli strumenti da adottare, soprattutto circa il valore del compenso da prevedere, che è poi il problema che più si pone dal punto di vista specifico. Ecco, quindi questo è il quadro di riferimento. Questo quadro di riferimento che ha come conseguenza l'adozione di quei famosi decreti ministeriali che appunto nascono da proposte del Consiglio nazionale forense e vengono approvate dal Ministero della Giustizia con un decreto ministeriale. L'ultimo decreto ministeriale è stato adottato dal DM 2018-1937 che è andato a modificare la grande formulazione, la grande riforma del tema di compensi professionali che è stata contenuta nel decreto ministeriale numero 55 del 2014 che aveva sostituito poi il numero 14 del 2012. In questo contesto si pone ovviamente un tema più generale. Il tema è legato alla interpretazione giurisprudenziale circa le tariffe forensi e soprattutto il problema legato alle modifiche che è stato posto nel tema attraverso una serie di riforme normative che hanno inciso proprio sul compenso dell'avvocato. Perché? Perché in questo contesto nel 2017 con il DL 148 del 2017 convertito in legge e poi modificato con un'ulteriore normativa contestuale che è la legge 205 del 2017 viene introdotto con queste disposizioni il principio dell'ecocompenso e clausole vessatorie. L'articolo 13 bis così come è strutturato che cosa prevedeva? Il compenso degli avvocati scritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi all'oggetto lo svolgimento anche in forma associata societaria delle attività di cui l'articolo 2,6 in favore di imprese bancarie e assicurative nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese è disciplinato da disposizione del presente articolo con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese cioè che cosa andava a regolare questa norma specifica? Un'ipotesi che in realtà è molto frequente perché come abbiamo visto prima l'articolo 13 va a regolare l'ipotesi molto standardizzata nella quale un privato va a interloquire con un avvocato per un supporto legale per un'assistenza giudiziale e in questi termini quindi va anche letta quella previsione che abbiamo visto in precedenza nei quali c'è effettivamente un'interlocuzione con l'avvocato anche per quanto riguarda la ritribuzione economica ma è ovviamente una situazione che non può essere applicata ai casi in cui il cliente è un grosso player del mercato una grossa impresa una grande amministrazione nelle quali in realtà i principi e la cornice della cornice dentro la quale si sviluppa il rapporto in realtà è determinata dalla stesso cliente quindi in questa ottica l'avvocato è l'avvocato diventare la parte debole del rapporto contrattuale non viceversa perché è l'avvocato che di fronte a player del mercato particolarmente grandi particolarmente importanti deve sottostare alle regole previste da questi operatori questo perché perché venendo meno l'indelogravità delle tariffe forensi chiaramente a quel punto sono i clienti direttamente che fanno il prezzo fissano il limite della retribuzione è qualcosa che l'avvocato normalmente nella prassi vede anche con i clienti piccoli ma in realtà il cliente piccolo essendo un cliente tendenzialmente occasionale a rientrare in quella cornice normativa che abbiamo visto di contrattazione spiccia per quanto riguarda il singolo incarico o la singola difesa in giudizio cosa che invece non si ha nel caso delle grandi strutture nelle quali invece spesso sono direttamente questi operatori a fare addirittura dei beauty contest cioè delle procedure selettive dell'avvocato nelle quali l'avvocato deve semplicemente come avviene voi lo sapete meglio di me con le pubbliche amministrazioni nelle quali l'avvocato si limita semplicemente a predisporre un modulo tra l'altro con delle indicazioni molto molto specifiche molto rigorose imposte da questi operatori nei quali si chiedono ad esempio delle rinunce ad esempio a delle spese si chiedono una riduzione delle spese già quantificate in partenza eccetera eccetera vengono presentata da parte dell'avvocato la propria offerta che deve essere parametrata in una serie di indici già previsti dallo stesso operatore dallo stesso cliente e a seguito di una valutazione comparativa l'incarico viene conferito quindi vedete un'ottica che è molto più vicina all'ottica delle pubbliche amministrazioni in cui in cui lavorate in questa prospettiva si inserisce quindi la logica del compenso delle clausole vessatorie il fine del presente articolo diceva la norma si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui è il comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui ha il DM introdotto dal Ministero della Giustizia quindi in quest'ottica la logica era l'eco compenso deve essere un compenso parametrato rispetto all'attività effettivamente svolta quindi il principio di partenza è questo l'ancoraggio di riferimento è ovviamente rappresentato dalle tale belle forense questo perché perché ovviamente nel momento in cui il grande operatore il grande cliente andava a cercarsi l'avvocato imponendo le proprie condizioni spesso anzi diciamo in via generale disancorava la propria richiesta rispetto alle tabelle forense che non venivano neanche non solo non venivano richiamate ma che ovviamente non venivano minimamente considerate a fine della quantificazione dell'onorario previsto per cui a fronte di onorari che avevano certi parametri la richiesta di assistenza aveva parametri completamente diversi spesso addirittura addirittura ridicoli vista la richiesta di attività ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui è il comma 1 come abbiamo detto prima che determinano anche in ragione della non equità del compenso patuito un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato quindi la logica era nel momento in cui l'incarico quindi il contratto sottoscritto tra l'avvocato e un altro operatore o un altro grande operatore contenga delle delle previsioni tali da determinare uno squilibrio contrattuale in pregiudizio dell'avvocato queste clausole vengono considerate vessatorie con tutto quello che ne consegue quindi quali sono quelle che cause vessatorie la modifica la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito eccetera eccetera tutta una serie di previsioni che l'articolo 13 bis introdotto dalla normativa che vi ho richiamato che vedete proiettata contenevano la stessa normativa di cui vi ho detto prevedeva l'applicazione anche di questo articolo alla pubblica amministrazione prevedendo in particolare ma in modo che l'APA in attuazione di principi di trasparenza buon andamento ed efficacia delle proprie attività garantisce il principio dell'eco compenso in relazione alle prestazioni e rese dei professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto comma 3 dell'articolo 19 4 del Becce prevedeva esattamente conteneva questa questa previsione quindi la logica che stava alla base dell'articolo 13 dell'articolo 13 vis della legge professionale era estesa con questa previsione anche alle pubbliche amministrazioni che ovviamente doveva e ovviamente era una norma che doveva inevitabilmente parlarsi con i principi della pubblica amministrazione quindi principi di trasparenza buon andamento ed efficacia della propria attività garantendo il principio dell'eco-compenso quindi era una logica tra il buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione articolo 97 della costituzione e il principio dell'eco-compenso da attribuire all'avvocato questo a livello generale come ha regito la giurisprudenza in questo contesto in questo contesto abbiamo due in realtà grandi grandi orientamenti quello della Cassazione e quello del Consiglio di Stato quello della Cassazione tutto sommato ho citato una sentenza ma ce ne sono anche altre è stato abbastanza positivo non nei confronti della pubblica amministrazione si parlava di altro la sentenza che della costituzione civile che vi ho indicato riguardava un fallimento nella quale si dà evidenza della importanza dell'articolo 13 bis nella logica dell'eco-compenso viceversa il caso affrontato dal Consiglio di Stato evidenzia l'atteggiamento sul punto molto più restrittivo da parte del giudice amministrativo il giudice amministrativo che nel caso della sentenza che vi ho richiamato che è la 1164 del 2016 doveva andare a verificare che cosa andare a verificare la legittimità di una comunicazione formulata dal Consiglio Nazionale Forense nei confronti dei propri iscritti che imponeva il rispetto delle tariffe del limite tarifario ai propri iscritti questa circolare veniva impugnata dall'autorità della garante della concorrenza del mercato che ne ravvisava la illegittimità quindi il contrasto rispetto alla normative di cui abbiamo visto in particolar modo alla del Pietro Bressani all'ADL1 del 2012 alla stessa legge professionale forense che invece prevedono la libertà delle tariffe professionali e quindi irrogavano in confronto del Consiglio Nazionale Forense una una sanzione economica per la violazione contestata il Consiglio Nazionale Forense impugna perde al tar appella in Consiglio di Stato il Consiglio di Stato dà nuovamente ragione dell'autorità garante della concorrenza dicendo che indubitabilmente la circolare del Consiglio Nazionale Forense laddove sostanzialmente veicola in modo rigido i propri aderenti all'applicazione delle applicazioni di tariffe minime in realtà reintroduce in maniera surrettizia le tabelle forense le tariffe minime e le tabelle forense così come effettivamente contestato da parte dell'autorità garante del mercato della concorrenza del mercato la Gipom quindi in questa prospettiva la valutazione del Consiglio di Stato è assolutamente rigida dicendo ma in realtà la logica è della massima apertura del mercato questa disciplina introdotta dal Consiglio del Stato va in contrasto con questa logica e il Consiglio Nazionale Forense va in contrasto con questa logica e quindi di per sé non può che essere ritenuta illegittima nel frattempo però il tema dell'eco compenso inizia ad avere una certa una certa importanza quindi l'applicazione della normativa introdotta nel 2017 inizia ad avere una certa rilevanza andando a creare in realtà due orientamenti giurisprudenziali che vedete sono connessi sono sviluppati nel corso degli ultimi anni da un lato si pone una serie di pronunce da ultima quella del Consiglio di Stato del 2021 dall'altro lato invece altre pronunce che in realtà hanno una prospettiva più permissiva rispetto al tema dell'eco compenso ma in che termini il problema che si pone qual è è l'aggancio della tariffa prevista cioè dell'onorario previsto dalle pubbliche amministrazioni rispetto alla richiesta dell'avvocato e cioè che cosa significa in fondo l'eco compenso questo è il tema di base che viene sviluppato da queste sentenze per cui da un lato abbiamo alcune sentenze che appunto evidenziano la necessità inevitabile di ancorare il parametro dell'eco compenso alle tabelle forensi in questo senso ad esempio si pone l'ordinanza del per Napoli che vi ho citato quindi assunta in sede cautelare la quale vi leggo ritenuto che in ogni caso le esigenze di riequilibrio finanziario dell'ente interessato devono armonizzarsi con altri principi fondamentali dell'azione amministrativa tra cui quello di riazionalezza e proporzionalità nonché di eco compenso per le prestazioni professionali considerato che le prescrizioni dell'avviso contenenti le disposizioni tarifarie contestate si impegnava ovviamente un avviso che andava a indicare le disposizioni attribuite ai legali si rilevano immediatamente lesive per i ricorrenti imponendo loro l'assunzione di un impegno ad accettare condizioni economiche inadeguate nella stessa impegnenza indicato considerato che al pregiudizio lamentato può avviarsi disponendo che l'amministrazione riesamini l'atto impugnato alla luce delle considerazioni sopraindicate a quel punto accoglieva la domanda cautelare in questo caso l'ordinanza del Tar Campania la domanda cautelare è presentata per una revisione delle prestazioni delle tariffe indicate perché in contrasto con il principio dell'eco compenso il tema viene più sviluppato viene sviluppato in maggior in maggior modo più articolato dalla sentenza del Tarancona numero 761 del 2019 che sul punto fa un ragionamento in questi termini cioè dice ma in realtà il parametro nel momento in cui si va a ragionare sul tema dell'eco compenso i parametri di riferimento dell'eco compenso non possono che essere quelli delle tabelle forensi allora a quel punto il tema è possiamo andare in deroga è possibile che le amministrazioni vadano in deroga alle tabelle forensi che rappresentano il parametro di riferimento dell'eco compenso ma in realtà sì ma in che termini possono andare possono andare ben oltre le tabelle forensi previste in realtà no perché a quel punto sforano l'unico parametro che ci può dire se il compenso è equo o meno questo è il ragionamento di base che viene svolto dalla 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 dal Tarancona infatti a un certo punto dice detti parametri i parametri i parametri previsti dal decreto ministeriale non possono essere considerate alla stregua di minimi tariffari inderogabili anche perché ovviamente dice Tarancona altrimenti avremo una surettizia reintroduzione delle tariffe inderogabili che sono state già abolite dal decreto Bersani ma costituiscono un criterio orientativo per la determinazione del compenso in altri termini non è scusa in via di principio la possibilità che le parti patruiscano liberamente il compenso anche in deroga i parametri di liquidazione però devono comunque partire dalle tabelle forensi per poter agganciare e poter confermare l'equità del compenso patruito questa è la logica che viene che viene prevista dal dal Tarancona viceversa il tema che pone l'orientamento restrittivo è il il seguente vi cito in particolar modo una sentenza che ha avuto una grande eco nella 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 giurisprudenza e nella nella dottrina della dottrina nazionale il tema che viene posto sull'eco compenso è legato al fatto che in realtà nel momento in cui viene meno la logica del la logica del del limite tarifario non è possibile ritenere che i parametri che i parametri le tabelle ministeriali forniscano un un parametro di riferimento assoluto motivo per il quale nel momento in cui l'amministrazione intende forre a base di gara un un affidamento di un servizio legale non necessariamente debba fare riferimento al ai tabelle ai tabelle forenzi questa prospettiva viene ribadita anche dal dalla giurisprudenza la giurisprudenza prima affermata la giurisprudenza precedente e poi ribadita anche dal dal consiglio di stato la giurisprudenza e soprattutto la quella più restrittiva in realtà è stata ritenuta è stata contestata dalla parte della dottrina perché a parte una serie di ragionamenti giuridici perché parte da un presupposto che come vi dicevo prima è un presupposto del tutto discutibile e cioè che la logica della della introduzione delle della della dell'eliminazione dell'indelorabilità delle tariffe professionali sia legata al rispetto del a una valorizzazione del principio di concorrenza e del rispetto di libera circolazione di persone quindi sia ancorata al rispetto di principi unitari questa avete visto ne parlavamo prima era proprio la base normativa di partenza da cui muoveva il legislatore già nel nel decreto Bersani e che in realtà costituisce la base di partenza gran parte del ragionamento di alcune pronunce della del giudice amministrativo le quali partono proprio da questo presupposto ossia che di fatto la logica dell'abolizione dei tariffe forensi in realtà sia del tutto in linea con una libera con una libera con il principio di libera concorrenza libera circolazione delle persone possibilità di una valorizzazione della concorrenza nell'ambito del mercato dei servizi legali niente di più sbagliato dice una sostiene una parte della giurisprudenza perché alla luce di una serie di sentenze della corte di giustizia il non è non è assolutamente questa la prospettiva che viene posta dal in particolar modo della corte di giustizia la corte di giustizia in una serie di pronunce ne ho citate un po' in realtà parte da un presupposto completamente diverso cioè dice ma tutto sommato la logica che sta alla base delle tariffe forenzi non è completamente sbagliata è chiaro che deve essere necessariamente parametrata sulla base della finalità delle tariffe forensi da un lato e dall'altro lato sulla base del contesto nel quale le tariffe forensi vengono sottoposte in particolar modo in una sentenza del del 2019 che adesso non trovo in una sentenza del 2019 la corte di giustizia afferma in maniera chiara che la la logica delle tabelle forenzi di per sé sia parametrata a una duplice logica da un lato quella di consentire il all'amministrazione in caso specifico di perseguire una tutela della del rapporto di confidenziale che l'amministrazione che in genere il cliente ha con il privato e dall'altro lato anche per una tutela della privacy legata a questi legata all'attività fatta dal dal professionista queste logiche quindi da un lato la necessità di una tutela di una scelta intuito persone del consulente del legale che assiste la pubblica amministrazione e dall'altro lato la necessità di rispetto di una serie di prerogative di privacy vedremo successivamente sono quelle che vengono poste alla base di un altro ragionamento che viene sollevato nella nella giurisprudenza e cioè il ragionamento che è volto a evidenziare la necessità di capire quale tipologia di attività legale viene richiesta perché il problema che si pone con specifico riguardo alle pubbliche amministrazioni è che parte dal tema dell'eco compenso ma va ad articolarsi in maniera ancora più particolare è legato proprio ai criteri e alle modalità di affidamento dell'incarico perché al di là del compenso specifico che viene individuato che vedremo successivamente ha un riflesso non indifferente il problema che viene posto dalle pubbliche amministrazioni che poi è posto con gli affidamenti delle incariche legali da parte delle amministrazioni è legato alle modalità attraverso le quali l'incarico viene conferito da un lato e dall'altro lato dai criteri posti alla base del conferimento dell'incarico modalità è necessario un affidamento con gara è sufficiente un affidamento diretto ovviamente sono tematiche che inevitabilmente vanno a interfacciarsi con che cosa con una tematica ancora più stringente cioè quella dell'applicazione del codice dei contatti pubblici rispetto all'affidamento dei servizi legali e su questo la giurisprudenza specialmente amministrativa si è concentrata però e adesso lo vedremo però la base di partenza da cui abbiamo iniziato a ragionare cioè la logica della individuazione del concompenso vedrete proprio nella giurisprudenza più recente che rappresenta uno dei portati uno delle tematiche che in realtà ancora ad oggi rappresenta un po' il tema di riferimento il problema della giusta dell'equa remunerazione dell'avvocato inevitabilmente si va a interfacciare anche con le modalità di scelta dell'avvocato da parte di amministrazione è chiaro che va in via generale decidere soprattutto su due parametri generali il primo l'abbiamo visto è connesso all'aspetto di tutela delle risorse finanziarie dei lenti locali perché chiaramente nel momento in cui l'amministrazione va a scegliersi un professionista sia per un supporto legale continuativo per una consulenza sia per un supporto di tipo giudiziale e può mettere a base di gara un importo molto ridotto chiaramente nei giovani ovvio le proprie risorse ma dall'altro lato chiaramente un compenso troppo ridotto può portare il mercato dei servizi legali ad orientarsi verso una direzione diversa cioè a non scegliere a non optare per il mercato delle pubbliche amministrazioni come un mercato effettivamente valido perché nel momento in cui le prestazioni rispettive che vengono messi a disposizione da parte delle amministrazioni ai professionisti sono troppo ridotte il professionista particolarmente qualificato decide di optare per il mercato privato abbandonando così il mercato delle pubbliche amministrazioni il motivo per il quale una eccessiva riduzione del compenso ed è un tema che si pone a livello generale che anch'io come professionista ho necessità di valutare nel momento in cui mi vengono richieste degli incarichi vengono chiesti dei preventivi per i carichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni anch'io devo valutare qual è il limite entro il quale posso qual è il massimo il cap il minimo a cui posso scendere per individuare il costo della mia attività e qual è il vantaggio che potrei trarre ad esempio andando a difendere nel medesimo contenzioso il privato ricorrente rispetto all'amministrazione che invece mi ha chiesto il preventivo questo squilibrio ovviamente deve essere preso in considerazione nel momento in cui si parte si parte a valutare il compenso il compenso specifico da porre a base di garantia ma che adesso vedremo e vedremo che valorizzazione ama questo aspetto non può non interfacciarsi con l'aspetto come abbiamo detto prima dei criteri di aggiudicazione criteri di affidamento delle modalità di affidamento il ragionamento di partenza che viene fatto è ovviamente non può che essere legato in questo in questo momento anche se pare un po' superato alla disciplina del decreto legislativo 50 del 2016 che sapete bene è stato recentemente superato con l'introduzione del decreto legislativo 36 del 2023 che abbiamo detto è ovviamente l'attuale codice in vigore ma la giurisprudenza delle riflessioni dottinali chiaramente si sono sviluppate soprattutto sulla base e giurisprudenziali sulla base del precedente codice vediamo vedremo poi anche che tipo di ricadute possono avere sul nuovo codice il precedente codice faceva una distinzione generale cioè prevedeva l'articolo 17 andando a recepire le logiche della direttiva 2014-24 che una serie di servizi legali erano considerati come contratti esclusi dalla disciplina degli appalti pubblici e quali erano questi servizi legali erano quelli concernenti servizi di arbitrato di conciliazione concernenti uno dei qualsiasi dei seguenti servizi legali rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato in una conciliazione tenuti in uno stato membro dell'Unione Europea in procedimenti giudiziari innanzi a organi giurisdizionali e autorità pubbliche di uno stato membro la consuenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui è al punto 1 o qualora vi sia un indizio concreto una probabilità elevata che la questione su cui verte la consuenza divenga oggetto del procedimento sempre che la consuenza fornita ad un avvocato sia fornita ai sensi della legge 31 e 82 servizi di certificazione e autenticazione di documenti prestati dai notai servizi legali prestati da fiduciari o tuttori disegnati o altri servizi legali cui i fornitori sono disegnati da un'ordine giurisdizionale dello stato eccetera e altri servizi legali che sono connessi anche solo occasionalmente all'esercizio dei pubblici poteri qual era la logica di base che andava a impattare nella identificazione di questi servizi legali esclusi e perché è importante individuare perché è importante individuarla perché l'articolo 17 andava a indicare questi servizi che al di là dei servizi di arbitrato di conciliazione e altri servizi generali in realtà andavano pure un problema di base e cioè il problema connesso alla necessità di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici quei servizi legali consistenti nella difesa in giudizio perché questo perché come avevamo detto anche in precedenza nel momento in cui la assistenza legale va ad incidere su un giudizio specifico si pongono numerosi problemi pratici e sistematici pratici sono ad esempio il problema del tempo la tempistica nell'individuazione di un avvocato nell'ambito di un in relazione ad un procedimento giudiziario già in corso questo pone un problema di rispettare le tempistiche procedimentali per la scelta dell'avvocato rispetto alle tempistiche processuali della difesa dell'ente caso molto concreto se io sono un comune ricevo un ricorso con un'istanza di sospensione ho un tempo molto limitato per procedere alla valutazione e alla scelta del legale che mi deve assistere ma se io ad esempio che sono un'amministrazione non solo ricevo un ricorso con un'istanza cautelare ma ricevo un ricorso con un'istanza cautelare con richiesta di decreto presidenziale monocratico quindi con una richiesta di tutela cautelare urgente chiaramente a quel punto a maggior ragione sono ristretti idee tempistiche per la scelta e la selezione dell'avvocato queste tematiche ovviamente non sono così determinanti a livello sistematica ma danno l'idea della necessità di calibrare le esigenze della pubblica amministrazione rispetto a logiche di massima partecipazione e massima pubblicizzazione e concorrenza nella scelta del legale da parte della pubblica amministrazione interessata questi sono problemi operativi ci sono problemi sistematici e come vi dicevo prima i problemi sistematici sono stati effettivamente evidenziati dalla giurisprudenza ma e soprattutto sono stati evidenziati dalla giurisprudenza dell'Unione Europea perché nel momento in cui come vi dicevo in precedenza si va a valutare le modalità di scelta e di selezione del legale caricato il problema che si pone è proprio connesso alla necessità di rispettare un iter procedimentale da un lato che sia necessariamente conforme all'iter procedimentale che è richiesto dalla normativa per cui l'amministrazione comunale nel vostro caso nel momento in cui deve scegliere un legale si pone inevitabilmente il tema del posso affidarlo con gara posso affidarlo in modo diretto che tipo di gara posso fare queste sono tutte tematiche che sono state che sono state valutate effettivamente dalla giurisprudenza in questo contesto e cioè da un lato in un'ottica di valutazione dell'articolo 17 del codice che nella parte che vi ho riportato e che quindi va a individuare una serie di contratti che sono da intendersi appunto esclusi rispetto all'applicazione del codice e dall'altro lato invece ai sensi dell'articolo 140 che rinvia all'allegato 11 sul legato 9 sull'applicazione di tutti quei servizi legali per i quali che sono quindi diversi rispetto a quelli indicati nell'articolo 17 ma per i quali vige un rispetto di alcune disposizioni soprattutto in materia di pubblicazione del codice medesimo in quei casi il problema che si pone ovviamente è che si tratta di servizi legali comunque ma non ricompresi nell'elenco qui indicato dell'articolo 17 che quindi pongono un problema di quale procedura rispettare nel momento in cui si intenda attribuire un incarico bene questa distinzione di base tra incarichi di fatto giudiziali e quindi occasionali e incarichi strutturali noi la assumiamo sulla base della disciplina dell'articolo 17 dell'articolo 140 del codice sulla base della direttiva europea 2014-24 ma in realtà il l'approccio la prospettiva del della giurisprudenza attuale in realtà è figlia di una prospettiva che già il consiglio di stato aveva posto in una storica sentenza tuttora molto citata e che rappresenta il vero parametro di valutazione che è rappresentata dalla sentenza del consiglio di stato numero 2730 del 2012 nella quale il consiglio di stato stiamo parlando di una disciplina ovviamente precedente addirittura al codice del 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 2016 quindi che fa riferimento al vecchio codice del 2006 al codice dell'ISAM nel quale l'affidamento dei servizi legali era era i servizi legali erano contenuti nell'allora legato 2b numero 21 del codice dei contratti che cosa dice il consiglio di stato il tutto nasce da una sentenza del 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 tarlazio latina nella quale il tarlazio aveva equiparato il l'assunzione di incarichi giudiziali con l'assunzione di incarichi di incarichi di consulenza legali di consulenza dicendo ma tutto sommato sia per quanto riguarda gli incarichi di consulenza sia per quanto riguarda gli incarichi giudiziali in realtà si sta parlando comunque di appalti di servizi e quindi di conseguenza non si capisce per quale motivo dobbiamo avere una disciplina di deroga di uno nell'altro del caso perché trattandosi gli appalti sui servizi il 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 suo affidamento diceva il tarlazio latina deve avvenire nel rispetto dei principi di comicità efficace e imparzialità ma il trattamento sia compatibile con l'oggetto dei contratti quindi di fatto alla fine la disciplina di riferimento era inevitabilmente da individuare nel codice dei contratti pubblici il consiglio di stato con la sentenza numero 2730 del 2012 invece pone la distinzione che è la distinzione che poi vediamo adesso viene ripresa anche successivamente cioè dice ma tutto sommato il tribunale ha mostrato di aderire all'orientamento ermeneutico secondo cui tanto l'attività di assistenza e di consulenza giuridica di carattere continuativo quanto il conferimento del singolo incarico di patrocino legale sarebbero annumerabili nell'unica e omnicomprensiva nozione di servizi legali di cui l'articolo 21 dell'allegato 2b del codice degli appalti la sezione dice il consiglio di stato in attesione ai rilievi svolti rappellante reputa che l'assimilazione sostenuta dal TAR non tenga nel debito conto la differenza ontologica che ai fini della qualificazione giuridica delle fatti specie e delle ricadute ad essa conseguenti in materia di soggezione alla disciplina recata dei codici e contatti pubblici connota l'esplicitamento del singolo incarico di patrocino legale occasionato da puntuali esigenze di difesa dell'ente locale rispetto all'attività di assistenza e consulenza giuridica caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione della complessità dell'oggetto della predeterminazione della durata tali elementi di differenziazione consentono infatti di concludere questo è un tema che diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso inserito in un quadro articolato di attività professionale organizzate sulla base dei bisogni dell'ente il conferimento del singolo incarico episodico legato alla necessità contingente non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contratto d'opera intellettuale che è sulla disciplina codicistica in materia di procedura di evidenza pubblica quindi ci dice il Consiglio di Stato in questa sentenza ma in realtà dobbiamo mettere una cesura chiara tra le due tipologie di incarichi perché un conto è l'incarico di consulenza legale che effettivamente deve essere ricondotto alla disciplina degli appalti pubblici perché comunque c'è un'organizzazione c'è un operatore che ha quindi una struttura tale da poter essere equiparato a un prestatore di servizi e dall'altro lato abbiamo una logica completamente diversa e cioè l'amministrazione che va a scegliersi intuito persone cioè va a scegliere la persona legale che ritiene più affidabile e sulla base di un incarico meramente fiduciario e quindi di conseguenza non può esserci un'equiparazione tra la situazione della consulenza legale e la situazione propria dell'incarico giudiziale questa logica ripeto che è individuata nella sentenza del Consiglio di Stato 2012 è in realtà la medesima logica che ritroviamo nella sentenza della Corte di Giustizia che già in precedenza vi avevo indicato del 2019 la causa 264 del 2018 la sentenza della Corte di Giustizia 6 giugno 2019 che come vi accennavo in precedenza svolge la medesima considerazione dicendo gli elementi che conducono la Corte ad escludere l'applicazione della disciplina dei contratti pubblici e i contratti di prestazione professionale avente oggetto la rappresentanza di giudizio sono due e sono in particolar modo l'intuitus persone visto prima e la massima riservatezza nell'espetamento dell'incarico c'è un passaggio della sentenza nella quale questi due elementi vengono evidenziati in modo assolutamente assolutamente netto perché in particolar modo quello qua la Corte di Giustizia dice occorre rilevare che la direttiva 2014 non esclude dall'ambito di applicazione di direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato o un'amministrazione giudicatrice ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato di conciliazione dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un Paese terzo nonché dinanzi ai giudici alle istituzioni internazionali ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o eventualità di un sifretto precedimento simili prestazioni e servizi forniti dall'avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto in cui tu persone tra l'avvocato e il suo cliente quindi cui tu persone e dall'altro lato la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente il cui oggetto consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato queste sono le parole della Corte di Giustizia nella sentenza che vi ho richiamato quindi vedete c'è un passaggio generazionale anche a livello normativo siamo nel 2012 si applica il codice di Elise interviene nel nuovo codice ma con le nuove direttive ma la impostazione della Corte di Giustizia rimane rimane la medesima quindi una distinzione di base tra le due tipologie di incarichi ecco in questa dinamica sorgono i problemi e intervengono più soggetti e più organi giurisdizionali che vanno a valutare queste tematiche e oltre gli organi giurisdizionali quindi oltre i conti e giudice amministrativo interviene anche l'ANAC interviene il CNF tutti i volti a cercare di individuare un percorso comune per la regolarizzazione per individuare un percorso comune per e condiviso nell'affidamento degli incarichi da parte della pubblica amministrazione perché ovviamente nel momento in cui si va a porre come discrimine come criterio come parametro generale di riferimento quello secondo cui i i gli incarichi di consulenza sono rientrano nel incarichi di consulenza legali gestiti in modo strutturale e con quindi una struttura da parte del professionista stabile rientrano nell'ambito di applicazione del codice invece gli incarichi di difesa non rientrano nell'ambito di applicazione del codice si pongono ulteriori problemi e cioè qual è il limite dentro il quale si può pensare ad un incarico di consulenza e qual è il limite dell'incarico di difesa giudizio nell'ambito dell'affidamento di un incarico di difesa giudizio essendo quest'ultimo sottratto dalla disciplina del codice dei contratti posso a quel punto io amministrazione fare un affidamento diretto se faccio un affidamento diretto posso rispettare devo per forza rispettare le regole del codice o siccome è un incarico in cui tu persone posso affidarlo direttamente senza andare a prendere in mano le procedure e anche eventualmente andando a superare i principi generali in materia di codice dei contratti pubblici che sono comunque applicabili ai contratti esclusi chi è l'organo effettivamente competente a atteguire gli incarichi di difesa in giudizio perché chiaramente se stiamo parlando di appalti pubblici e di contratti non riconducibili alla disciplina dei contatti pubblici può essere diverso l'organo può essere un organo amministrativo incarichi di consuenza oppure un organo politico incarichi di difesa di giudizio quindi vedete tutta una serie di problematiche che vengono affrontate dalla giurisprudenza in questa problematica si pone poi il tema dei criteri di aggiudicazione nel momento in cui individuo un percorso per l'attribuzione di un incarico legale qual è il criterio a cui devo rifarmi posso affidarlo facendo ricorso attraverso il criterio del minore prezzo o necessariamente devo fare una valutazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa altro problema che si pone stiamo parlando di incarichi legali abbiamo parlato prima del principio dell'eco compenso il principio dell'eco compenso è o meno parametrabile è ancora valido laddove si parli di incarichi gratuiti tutte queste tematiche ripeto sono state affrontate dalla giurisprudenza e dalla l'individa ANAC andando per ordine cerchiamo un attimino di ripondurre il tutto ad unità perché in realtà introdotto il codice dei contratti pubblici del 2016 quindi il 50 del 2016 il tema che come vi ho detto all'inizio di questa di questa lezione era particolarmente determinante ha portato proprio per determinante anche da un punto di vista veramente di quantificazione ha portato l'ANAC a individuare un percorso orientativo per le amministrazioni nell'affidamento degli incarichi degli incarichi legali e in questa prospettiva ha adottato le linee guida numero 12 linee guida che hanno avuto tra l'altro un trascorso non del tutto agevole perché la proposta di linee guida è stata sottoposta al Consiglio di Stato aveva determinate logiche il Consiglio di Stato ha intervenuto in maniera massiccia sulle logiche che erano più restrittive in alcuni casi più restrittive in alcuni casi non del tutto chiare dell'ANAC e ha quindi introdotto una serie di specificazioni alla disposizione delle linee guida che poi ANAC ha ricepito nella versione finale delle linee guida ANAC il parere del Consiglio di Stato noto lo trovate su internet e così vedete se siete interessati così vedete anche che tipo di intervento ha fatto il Consiglio di Stato sulla bozza originale sul proposto originale di linee guida è il parere numero 2017 del 3 agosto del 2018 nel quale vedrete il Consiglio di Stato affronta la idoneità delle linee guida a disciplinare la materia anche alla luce dei rilievi operati dal CNF dal Consiglio Nazionale Forense proprio nella individuazione da parte di ANAC delle regole di riferimento regole di riferimento che sono contenute quindi nelle linee guida numero 12 le quali come vi dicevo prima partono dal medesimo presupposto che era stato posto dal Consiglio di Stato con la sentenza del 2012 che ripeto rimane ancora oggi il parametro di riferimento in materia che cosa fa la ANAC riprende il tema della distinzione tra articolo 17 quindi servizi legali riconducibili l'articolo 17 e articolo 140 quindi tutti quei servizi legali che in realtà sono soggetti all'applicazione del codice andando a dire che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto in premessa questo con conseguente applicabilità del legato 9 degli articoli 140 seguenti del codice dei contratti pubblici laddove la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata di regola interiennio l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto di opera professionale consistendo nella trattazione della singola controversia o questione ed è stato posto a regime di cui è l'articolo 17 quindi viene escluso dall'ambito di applicazione del codice nella articolazione delle linee guida quindi abbiamo una prima parte nella quale l'ANAC va a individuare tutti i casi nei quali a suo avviso si ha l'applicazione dell'articolo 17 quindi non si applica la disciplina del codice dei contatti pubblici e poi successivamente i servizi legali di cui è allegato 9 del codice dei contatti pubblici quindi che sono soggetti in toto alla procedura e su questo ci sono delle valutazioni interessanti perché come vi dicevo prima ci sono rintracciabili delle situazioni che possono essere considerate borderline tra incarichi di consuenza e incarichi giudiziali quali ad esempio il tema legato all'attività preliminare all'affidamento di un incarico giudiziale poniamo caso voi siete un'amministrazione che riceve un ricorso il ricorso è privo da parte di un privato che impugna ad esempio un provvedimento in materia di inizia il ricorso è privo di un'istanza cautelare quindi l'amministrazione ha tutto il tempo per poter valutare la fondatezza o meno del ricorso e poter anche individuare il legale preliminarmente ritiene però di andare a sentire il parere di un avvocato senza incaricarlo formalmente per capire quale potrebbe essere l'esito del ricorso e poi decidere conseguentemente oppure semplicemente gli affida un incarico di supporto partendo dal presupposto che il ricorso potrebbe essere considerato potrebbe essere considerato fondato e di conseguenza potrebbe ritenere molto più percorribile la possibilità di conferire un'assistenza legale ad un avvocato al fine di portare il contenzioso ad una risoluzione extra giudiziale senza quindi necessariamente costituirsi in giudizio oppure si potrebbe essere una situazione nella quale un incarico giudiziale è semplicemente una delle propaggini di altri incarichi giudiziali nel frattempo già pendenti oppure ancora un'eventuale un'amministrazione che riceve una diffida da parte di un privato che prospetta l'eventuale impugnazione di un provvedimento adottato dalla stessa amministrazione a quel punto l'amministrazione che ha eventualmente logiche di sistema connesse all'adozione di quel provvedimento che magari non riguarda un caso specifico o riguardando un caso specifico però interessa più casistiche pensate al caso delle espropriazioni al caso delle discipline urbanistiche per cui l'impugnazione di un determinato atto potrebbe avere delle ripercussioni a livello sistematico a quel punto pur in assenza di una impugnazione formale già esperita ha necessità di sentire un legale per capire come orientarsi a fronte di un eventuale contenzioso bene tutte queste situazioni vengono affrontate in maniera capillare dall'anaca la quale per esempio ci dice che rientrano nell'articolo 17 quindi in una disciplina extra codice gli incardichi di patrocino legale conferiti in relazione a una specifica e già esistente lite adesso il caso limite è quello dell'impugnazione con motivi aggiunti rispetto all'impugnazione già svolta dal medesimo privato con ricorso nell'ambito della medesima causa oppure più un ricorso autonomo svolto nell'ambito di una procedura di un'unica procedura quindi più ricorsi che però si parlano tra loro sono tra di loro connessi che quindi rispetto ai quali rispetto al primo ricorso l'incarico è stato già conferito dall'amministrazione a un legale quindi il secondo ricorso che in realtà appunto è strutturalmente connesso al primo viene conferito al secondo legale proprio perché è un incarico giudiziale che inevitabilmente è connesso con il primo rientra ancora nella disposizione dell'articolo 17 rientrano i servizi di assistenza e consuenza legale preparatori o attività di difesa in un procedimento di arbitrato conciliazione o giurisdizionale anche solo eventuale per cui nel caso che vi ho fatto prima voi siete nell'ambito che siete in un'amministrazione che riceve una diffida la diffida ha problemi può presentare problemi sistematici andate a vi affidate a un legale per sentire il suo parere e capire come orientarsi nella gestione del contenzioso relativo a quel punto questa dinamica questa situazione viene fatta rientrare dall'ANAC nell'ambito delle procedure dei servizi legali di cui è l'articolo 17 quindi si tratta di incarichi intuitus persone non incarichi riconducibili ad appalti pubblici ce ne sono altre situazioni adesso non possiamo valutarle tutte quante ma questo per darvi un'idea anche dell'analiticità con la quale l'ANAC entra a esaminare caso per caso il problema che pone l'ANAC ulteriore non è non è però da sottovalutare e cioè da dove rientriamo nel caso degli incarichi di difesa in giudizio e quindi di incarichi che di per sé non rientrano negli incarichi configurabili come appalti pubblici quindi non si applica il codice di dati pubblici il problema che si pone ovviamente riguarda le modalità di affidamento dell'incarico prendiamo caso stiamo parlando di un affidamento al di sotto di 40.000 euro o delle nuove soglie che consentirebbero l'affidamento diretto l'amministrazione si pone il problema oppure l'opportunità di affidare un incarico in via diretta senza sentire ulteriori operatori precedentemente bene in questa questa situazione è affrontata in modo in modo specifico da parte della della dell'anaca la quale dice ma rientra nelle migliori pratiche quindi è un tema di best practice per l'affidamento dei servizi legali di cui l'articolo 17 la costituzione di elenchi di professionisti eventualmente suddivisi per settore di competenza previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente aperta pubblicati sul proprio sito istituzionale in tal modo infatti l'amministrazione può restringere tra di loro il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa penso che molte delle amministrazioni in cui svolgete le vostre attività molte delle amministrazioni in cui svolgete le vostre attività abbiano istituito appositi regolamenti appositi albi nei quali con una procedura costantemente aggiornata fanno confluire i legali che hanno delle competenze specifiche nei settori che vengono individuati nei singoli albi per cui le amministrazioni normalmente cosa fanno creano un regolamento che prevede l'istituzione di un albo sulla base di determinate specifiche per cui l'avvocato che intende partecipare all'albo quindi di iscriversi a questo albo deve presentare una domanda e la domanda viene valutata dall'amministrazione quindi il nominativo dell'avvocato viene inserito nell'albo questo dice l'ANA che con le linee guida numero 12 così rispondo anche il vostro collega che ne l'ha chiesto è considerato dall'ANA che medesima come una best practice quindi dice l'ANA che va benissimo questa è una soluzione che può essere fatta in questo modo si riesce a valorizzare le singole competenze e attraverso le individuazioni di lenchi professionisti ed è un modo anche per consentire una restrizione una individuazione di un canale preferenziale più ristretto per le individuazioni delle professionalità necessarie ad espirire un determinato incarico aggiunge poi l'ANA che l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui l'articolo 17 è possibile nel rispetto dei principi recati dell'articolo 4 del codice vecchio solo in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali che devono essere spessamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina contrarre che cosa vuol dire una volta istituito l'albo dice l'ANA che in realtà non abbiamo superato il problema del rispetto dei principi generali perché è vero dice l'ANA che gli appalti che vengono fatti ricondurre nell'articolo che sono incarichi riconducibili all'articolo 17 non possono essere ascritti all'applicazione del codice dei contratti pubblici però aggiunge ANAC è anche vero che tutti i contratti anche quelli esclusi però che sono sottoscritti alla pubblica amministrazione devono rispettare i principi previsti dall'articolo 4 quindi principi di efficienza economicità trasparenza eccetera eccetera tutti quei principi che vanno a che vanno a che devono essere posti alla base della di qualsiasi di qualsiasi contratto dalla parte della pubblica amministrazione sia di contratti attivi che di contratti passivi dell'amministrazione interessata bene alla luce di queste della necessità di rispettare questi principi l'ANAC ci dice guardate che l'affidamento diretto degli l'affidamento diretto degli incarichi se si ritiene che vengono che debbano essere espediti nel rispetto dei principi dell'articolo 4 può avvenire solo in caso di affidamento diretto solo laddove l'amministrazione vada a introdurre delle specifiche logiche motivazionali che devono essere illustrate della stazione appaltante nell'ambito della determina contrarre quindi ci dice l'ANAC attenzione l'instituzione di un albo di per sé non va a superare il problema della procedura selettiva perché nel corso della spiegazione l'ANAC ci dice in realtà il momento in cui l'amministrazione deve individuare un professionista anche per l'espedamento di un incarico giudiziale necessariamente lo deve fare attraverso una forma procedimentalizzata quindi attraverso l'espedamento di un di un iter che porti ad una comparazione tra i vari soggetti interessati sia pure in maniera di pure in maniera non rigida come se fosse un affidamento diretto senza soglia ma attraverso dopo aver sentito più operatori interessati nel momento in cui va a espedare questa questa dinamica procedimentale allora si può ritenere che l'affidamento di questi incarichi sia legittimo altrimenti non è ritenuto legittimo l'affidamento diretto nei confronti di un professionista benché si rientri nell'ambito di applicazione di contratti formalmente esclusi dell'applicazione del codice dei contratti pubblici questa è la prospettiva che ci pone l'ANAC nelle linee guida del numero nelle linee guida numero 12 che vi ho citato ovviamente questa prospettiva al di là dei problemi pratici che vi ho detto ha creato un ulteriore problema sistematico e cioè nel momento in cui l'amministrazione deve andare a procedimentalizzare la propria scelta chiaramente questo vuol dire che di fatto benché i contratti di carichi giudiziali siano sottratti probabilmente dalla disciplina del codice in realtà sono sottratti fino a un certo punto perché tutto sommato sono comunque soggetti a un iter procedimentale standardizzato che quindi in realtà comprime in modo molto molto sensibile proprio le logiche dell'affidamento intuito persone che la corte di giustizia come vi ho detto e che la stessa giurisprudenza dal 2012 aveva posto come presupposto per l'affidamento di questi incarichi quindi viene detto ma tutto sommato da parte della dottrina di cosa stiamo parlando se dobbiamo procedimentalizzare anche questi incarichi di fatto in realtà viene posto un limite molto forte all'applicazione della discrezionalità della pubblica amministrazione in particolar modo a proprio quelle logiche di intuito intuito persone che l'amministrazione deve vuole perseguire nel momento in cui deve rispettare nel momento in cui vai a scegliersi un legale incaricato dell'assistenza giudiziale nel caso specifico il tema che si è posto un po' rimbalzando nel corso degli anni è stato affrontato in particolar modo e in modo secondo una parte della dottrina anche decisivo da parte di una sentenza della di una pronuncia della della Corte dei Conti che è stata ovviamente molto commentata da parte della dottrina che è la pronuncia numero 509 del 2021 della sezione della sezione della Corte dei Conti della Regione Lazio il tema che si era posto era legato al fatto che veniva contestata nei confronti degli amministratori di un ente da parte della Procura regionale quindi veniva contestata una violazione degli articoli previsti in materia di affidamento degli incarichi e di conseguenza veniva contestato un danno errariale addebitabile agli amministratori che avevano deciso di affidare un incarico di supporto legale nell'ambito di giudizi a degli avvocati un avvocato se non mi ricordo senza l'esploitamento di una procedura comparativa effettiva questo veniva sorrevato dalla Procura della Corte dei Conti e andava ad incidere proprio sulla regolarità dell'affidamento e quindi di conseguenza andava a sottendere un possibile danno errariale compiuto da questi amministratori nel momento in cui avevano selezionato l'avvocato di fiducia la logica di base era la stessa logica opposta dalle linee guida anche nel momento in cui affermava la Procura della Corte dei Conti nel momento in cui l'amministrazione deve andare a scegliersi un avvocato anche per un incarico giudiziale necessariamente deve passare attraverso un interprocedimentalizzato e nel fare questo cioè passare attraverso un interprocedimentalizzato necessariamente deve rispettare una serie di una serie di parametri che nel caso specifico non erano stati rispettati avendo l'amministrazione nel caso di specie affidato in via diretta gli incarichi che cosa ci dice la Corte dei Conti in questa sentenza ripeto è la sentenza la decisione numero 509 del 2021 ci dice cerco di estrapolarvi le parti più interessanti il collegio è dell'avviso che i mandati di patrocino in giudizio affidati dalla Consip di cui si discute non erano soggetti in una procedura di evidenza pubblica la contraria tesi sostenuta dal requirente della procura si basa su una controversa interpretazione della disciplina riguardante l'affidamento di incarichi di patrocino legale da parte della pubblica amministrazione inquadrata nell'ambito di veri e propri appalti di servizi interpretazione sicuramente minoritaria già durante il previgente decreto iniziativo 163 del 2006 e solo in parte rivista dopo l'entrata in vigore del decreto iniziativo 50 del 2016 attualmente è tutto superato alla luce della più recente giurisprudenza europea cosa vuol dire questa affermazione la corte di conti dice ma guardate la procura ritiene che gli incarichi di patrocino legale debbano tutto sommato essere inquadrati anch'essi nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici si tratta di una prospettiva che però lo abbiamo visto in precedenza già era del tutto minoritaria durante la vigenza del codice del 2006 tant'è che abbiamo visto il consiglio di stato nella sentenza richiamata del 2012 aveva già fissato una linea di distinzione aveva tracciato una linea di distinzione generale tra le tipologie di incarichi di servizi legali nella vigenza del codice dei contratti pubblici del 2016 come abbiamo visto sia l'ANAC che il consiglio di stato hanno in parte vero rivisitato questa distinzione netta operata dal consiglio di stato nel 2012 in particolar modo che cosa hanno detto hanno detto come abbiamo visto che anche per gli affidamenti diretti anche per gli affidamenti di incarichi giudiziali tutto sommato sia necessario un interprocedimentale specifico questo è quello che dice ANAC anche nell'ineguità 12 prospettiva che ovviamente è condivisa dal consiglio di stato nel parere che vi ho citato in precedenza ma aggiunge la corte dei conti con l'entrata in vigore del decreto di stativo 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all'articolo 2229 e seguente del codice civile visto in precedenza per i quali era stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio e gli incarichi illegali di consulenza assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate vedete la distinzione di base che opera l'ANAC con riguardo i primi quindi agli incarichi giudiziali qua inizia a esserci la riflessione specifica della corte dei conti se è vero che il consiglio di stato che l'ANAC avevano osservato che rispetto ai principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella fase del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso preferibilmente la costituzione di elenchi ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato subordinato secondo le linee dell'ANAC alla presenza di specifiche ragioni espresse nella stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi altrimenti la medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia cioè il Corte Conti dice guardate che l'ANAC per quanto riguarda gli incarichi giudiziali ci dice che sì è vero è necessario rispettare la procedimentalizzazione per avere un rispetto dei principi dell'articolo 4 del codice dei contratti pubblici quindi trasparenza imparzialità efficienza eccetera eccetera però detta delle deroghe deroghe legate come abbiamo visto al caso di più contratti di più incarichi legati tra di loro di incarichi complementari eccetera eccetera in ogni caso e questo è il tema che pone il Corte dei Conti una lettura sistematica delle disposizioni dell'articolo del decreto legislativo 50 consente di rilevare come il legislatore della riforma con il richiamo all'articolo 4 più che delineare una vera e propria procedura comparativa abbia inteso invocare il rispetto del generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità trasparenza adeguata motivazione non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e giudiziario dei servizi legali tale prospettiva dice la Corte dei Conti è rimenibile anche nel giudice nel giudice comunitario e in particolar modo nella sentenza che vi ho prima citato del 6 giugno del 2019 nella quale appunto si dice che il carattere fiduciario come abbiamo visto abbiamo detto già in precedenza consente di evitare consente di evitare consente di ritenere particolare la situazione che è connessa agli incarichi di difesa in giudizio tale per cui non è necessario non è possibile ricongurre tali contratti alle procedure del codice dei contratti pubblici e quindi in base a questo la Corte dei Conti ritiene che sia possibile per gli incarichi giudiziali l'affidamento diretto anche al di là delle specifiche situazioni indicate dall'inneguida ANAC mi chiederete in prima battuta bene ma l'inneguida ANAC però prevedono questo come facciamo a non rispettarle allora il tema che si pone è legato all'effettiva valenza dell'inneguida ANAC ossia se siano atti effettivamente vincolanti o meno e su questo la dottrina maggioritaria ritiene che le linee guida ANAC non siano delle linee guida vincolanti e di conseguenza siano solamente delle linee guida orientative per le pubbliche amministrazioni nella gestione dei singoli appalti quindi in questa ottica seguendo l'indicazione della Corte dei Conti è comunque possibile arrivare ad un affidamento diretto degli incarichi giudiziali di difesa dell'ente è chiaro che tutto risiede nella motivazione dell'amministrazione per cui nel momento in cui un'amministrazione ritiene di bypassare l'eventuale procedimentalizzazione dell'affidamento dell'incarico deve dare un'adeguata motivazione nel provvedimento finale di assignazione dell'incarico questa è una prima valutazione che vedete va in parte a superare la prospettiva che è posta dall'ANAC negli incarichi nelle linee guida numero 12 l'altro tema che si pone ed è un tema che si pone attualmente è quello legato ai criteri di aggiudicazione perché nella prospettiva attuale abbiamo detto abbiamo visto in precedenza il problema è come faccio a rispettare il principio dell'eco compenso laddove non ho un parametro di riferimento da considerare il tema ha suscitato un notevole dibattito a livello giurisprudenziale che poi si è articolato in una serie di pronunce una delle quali che rappresenta l'orientamento più restrittivo e ve l'ho in parte richiamata in precedenza è quella del Tar Lombardia numero 1071 del 2021 in questa sentenza il Tar come vi dicevo in precedenza era stato chiamato a decidere da parte di un ricorrente circa la legittimità dell'affidamento di un incarico a seguito di una procedura comparativa nella quale il comune era il comune di Cernusco aveva affidato un incarico di consulenza dopo aver espletato una procedura affidato ad uno degli avvocati che avevano partecipato alla procedura uno degli avvocati non risultanti giudicataria impugna il provvedimento di aggiudicazione e in particolar modo evidenzia che cosa dice ma tutto sommato l'illegittimità il provvedimento di aggiudicazione dell'incarico giudiziale sarebbe illegittimo ad avviso del legale che ha impugnato la giudicazione perché le pubbliche amministrazioni sarebbero sempre tenute comunque a corrispondere al professionista incaricato o di un servizio legale un compenso non inferiore al minimo dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale anche dove il compenso non si è imposto unilateralmente o non si ravvise un significato squilibrio contrattuale a carico del professionista cioè nella logica dell'impugnazione dice il professionista che impugna l'aggiudicazione nel momento in cui il comune aggiudica in ogni caso deve aggiudicare sulla base di un parametro specifico e cioè di un parametro economico che consenta il rispetto delle tabelle professionali l'abbiamo visto in precedenza la contestazione operata dal professionista quindi legato alla logica di quale sia l'effettivo criterio posto alla base dell'affidamento perché rileva questo da un punto di vista sistematico perché in realtà il problema che si pone è nel momento in cui le amministrazioni hanno fatto hanno istituito un elenco e hanno inserito gli avvocati in questo elenco e devono e ritengono di farle gare ma devono farle gare a seconda della situazione nella quale si trovano per l'affidamento di incarichi giudiziali come fanno queste gare cioè questa procedura selettiva comparativa come viene svolta e lì vedete sapete bene nella prassi ci sono vari casi io mi sono sono trovato di fronte a varie situazioni nelle quali spesso le amministrazioni comunali dopo aver istituito un album un elenco di avvocati fanno una consultazione nel mercato quindi semplicemente mandano una comunicazione a una serie di professionisti nella quale evidenziano qual è la situazione nel fatto di aver ricevuto un ricorso notificato da parte di un privato quell'oggetto di ricorso spesso viene allegato allo stesso atto notificato e chiedono un preventivo al legale interessato qual è il problema che si pone è che il preventivo ovviamente è del tutto disancorato da qualsiasi parametro e quindi lo stesso avvocato interessato si pone tutto questo pone un problema all'avvocato interessato che chiaramente non ha nessun parametro sulla base della quale operare il proprio preventivo l'unico parametro che ha a disposizione ovviamente è quello delle tabelle professionali che però è un parametro che come abbiamo visto prima di per sé secondo appunto la sentenza del TAR Lombardia è del tutto eventuale è assolutamente può essere assolutamente ignorato da parte delle pubbliche amministrazioni in questa prospettiva quindi qual è il problema che in realtà è duplice da un lato il primo problema è che la procedura di gara di fatto è disancorato o meglio la procedura comparativa è disancorata da qualsiasi da qualsiasi parametro di riferimento da un punto di vista economico per cui non c'è nessun modo per il professionista di capire qual è il preventivo quindi qual è l'offerta che può fare e questo è un primo problema il secondo problema è legato al criterio stesso di determinazione della giudicazione e cioè l'amministrazione non va a valutare la qualità del singolo professionista perché la qualità del singolo professionista in questa ottica dovrebbe essere valutata in precedenza sulla base della mera iscrizione all'elenco che quindi già di per sé rappresenta rappresenta un criterio di valutazione generale ma il criterio che viene individuato nel caso di selezione del legale interessato è un criterio specificatamente del minor prezzo in questa prospettiva si pone il tema degli incarichi gratuiti che è un tema che ha interessato particolar modo la giurisprudenza e che ha un riflesso generale anche sui criteri di aggiudicazione perché abbiamo visto che nella nella disciplina nella disciplina stessa della legge professionale non è non è escusa la possibilità che il la possibilità che un avvocato sia destinatario di un incarico gratuito quello che viene espressamente affermato l'abbiamo visto in precedenza è che l'incarico nel momento in cui deve essere ritribuito debba necessariamente rispettare il principio dell'eco compenso l'abbiamo visto in precedenza principio generale che poi si va a declinare nell'articolo 13 bis che va a declinare con le modalità che abbiamo visto specificatamente con riguardo al tema dell'eco compenso del caos delle investatorie rispetto a determinati settori interessati il tema degli incarichi gratuiti è stato affrontato anche dalla giurisprudenza amministrativa in particolar modo il consiglio di stato con due sentenze del 2021 è andato a affrontare proprio il tema specifico della gratuità dell'incarico andando a fermare che cosa quello che vi ho detto in precedenza cioè che non necessariamente l'incarico gratuito deve essere ritenuto privo di corrispettivo e cioè nella logica del consiglio di stato in realtà il corrispettivo da parte del professionista interessato può essere semplicemente individuato nel prestigio che l'incarico di per sé dà al legale interessato che quindi ha una retribuzione indiretta derivante dal prestigio che gli viene dall'incarico a prescindere dal fatto che l'incarico sia gratuito questa prospettiva ci dice chi dice il consiglio di stato e anche il tar ci dice è assolutamente conforme alla disciplina attuale e non crea di per sé un problema essendo comunque possibile la traduzione di incarichi gratuiti in capo ai legali interessati questo è un po' la ricostruzione generale qui vi ho richiamato anche una serie di sentenze dell'Emilia Romagna per esempio la 35 del 2018 che invece dava nella Corte dei Conti che invece dava una prospettiva che poi è stata superata dal tarlazio nella sentenza che io ho richiamato la 509 del 2021 nell'ottica di compatibilità degli incarichi legali e della possibilità che che ci sia un affidamento diretto degli incarichi giudiziali senza necessariamente una procedimentalizzazione di questi incarichi bene la situazione che vi ho descritto è stata incisa recentemente da due grandi riforme come vi dicevo in apertura in apertura a questo incontro la prima è rappresentata dalla legge 21 aprile 2023 numero 49 che introduce le disposizioni in materia di compenso delle prestazioni professionali perché è importante perché va a superare un tema di base che si è posto nella precedente normativa circa la corretta formulazione della nozione di ecocompenso per le prestazioni professionali ecocompenso che ovviamente non riguarda solamente le prestazioni forense le prestazioni legali ma riguarda che riguarda altri una serie di professionisti specificatamente indicati dalla legge legge che all'articolo 1 va a identificare la nozione di ecocompenso andando a spiegare che per ecocompenso si intende la corrisponsione di un compenso proporzionato alla quantità e la qualità del lavoro svolto e contenuto alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente per gli avvocati dal decreto del ministro della giustizia emanato essi dall'articolo 13,6 della legge professionale quindi ad oggi al DM 55 del 2014 quindi nell'ottica del legislatore è ecocompenso del legislatore della legge 49 del 2023 è da considerarsi ecocompenso solo quel compenso che al di là del fatto di ritribuire di considerare la qualità del lavoro svolto il contenuto eccetera sia conforme ai compensi il che ovviamente va a incidere sul tema dei compensi previsti da parte delle amministrazioni perché va a incidere perché laddove va a individuare l'ambito di applicazione della norma l'articolo 2 della stessa legge ci dice che le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni dei professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società discriminate dal TUIP cioè dal testo unico delle società a partecipazione pubblica quindi al decreto legislativo 175 del 2016 quindi queste disposizioni in materia di eco compenso si applicano a tutte le amministrazioni nel vostro caso comunali ma anche alle aziende comunali e alle in-house comunali non si applicano invece continua la norma in ogni caso alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione rispetto ai quali non si applica la disciplina specifica qual è la conseguenza del mancato rispetto della disciplina sull'eco compenso è l'annualità del contratto quindi vedete che alla fine il tema di base è affido un incarico devo affidarlo sulla base dell'eco compenso se il professionista contesta pur avendo stipulato il contratto contesta la 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 sottoscrizione dell'eco compenso della rimunerazione prevista nel contratto in tal caso può eccepire di fronte al giudice può eccepire l'annualità del contratto anzi non l'annualità della specifica clausola prevista per quanto riguarda la rimunerazione dell'incarico e a quel punto qual è la tabella di cosa deve applicare il giudice deve applicare ovviamente le tabelle forensi di riferimento e quindi la valutazione del compenso da parte del professionista dovrà essere valorizzata alla luce delle tabelle forensi il problema che si pone che si è posto in giudice è legato al fatto della individuazione del compenso da parte della pubblica amministrazione perché ovviamente la logica di riferimento che si aveva fino alla legge del 2023 era legata al fatto che si trattava di imposizioni in determinati settori di clausole nei confronti degli avvocati da parte dei clienti in relazione alla rimunerazione offerta cioè il problema era che l'avvocato si vedeva imposto una determinata rimunerazione e che in conseguenza di questo poteva cipirne la nullità proprio perché imposta da parte di un soggetto posto in una posizione superiore dal punto di vista contrattuale quindi l'imposizione della rimunerazione laddove andava in contrasto con l'eco compenso doveva ritenersi volta a creare un disequilibrio del rapporto contrattuale e quindi determinando ciò una nullità della disposizione specifica contrattuale relativa al compenso la giurisprudenza amministrativa nella sentenza che vi ho citato proprio del Tarla Lombardia invece ci dice ma tutto sommato in realtà l'applicazione del compenso professionale in casi in cui l'attribuzione dell'incarico avvenga attraverso una procedimentalizzazione del rapporto non è un'imposizione della pubblica amministrazione ma la determinazione del compenso avviene attraverso un'interlocuzione di fatto tra il legale che poi verrà incaricato e l'amministrazione interessata di modo tale che in realtà la retribuzione poi che si va a individuare è frutto di una contrattazione libera contrattazione delle parti in questa prospettiva quindi non si può pensare che il compenso sia stato imposto da parte dell'amministrazione e quindi teoricamente non si dovrebbe rientrare nella disciplina della disciplina dell'eco compenso e quindi non si dovrebbe ritenere nullo la disposizione contrattuale specifica sulla base della nuova normativa il dubbio invece c'è perché l'articolo 5 ci dice che gli accordi preparatori o definitivi purché vincolanti per il professionista conclusi tra i professionisti e le imprese di quell'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dall'impresa stessa salvo prova contraria la formulazione di questa norma non è delle più felici perché parla di imprese laddove l'articolo 1 in realtà parla di imprese bancarie assicurative quindi teoricamente si potrebbe pensare che la norma non che nell'ambito di applicazione della norma non ricadano le pubbliche amministrazioni infatti ovviamente non imprese e che quindi in realtà questa specificazione non riguarda le pubbliche amministrazioni il tema il tema ovviamente non è indifferente perché è chiaro che se l'amministrazione nel momento in cui va a affidare in modo procedimentalizzato sulla base di una di una compenso che viene individuato nell'ambito della procedura medesima un legale e questo compenso che è stato individuato viene ritenuto in contrasto con le tabelle forense quindi di per sé nullo potrebbe ovviamente creare problemi notevoli problemi notevoli che in realtà sembrano tutto sommato essere attenuati da dove si va a prendere in considerazione il nuovo codice dei contatti pubblici il quale all'articolo 8,2 prevede che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente salvo che in casi eccezionali prevede adeguata motivazione salvo i prediti in casi eccezionali la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'eco compenso il tema che si pone è quindi nello specifico è l'eco l'incarico professionale può ancora essere attribuito dalle pubbliche amministrazioni anche in via gratuita in casi eccezionali e prevede adeguata motivazione quindi il problema che viene posto della gratuità dell'incarico non viene completamente superato perché l'amministrazione può comunque prevedere in casi particolari che l'incarico venga svolto gratuitamente salvo tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'eco compenso il principio dell'eco compenso secondo la prospettiva giurisprudenziale più recente deve essere inteso ovviamente valorizzandolo solo laddove il compenso ci sia e cioè la logica sviluppata dalla giurisprudenza del consiglio di stato e nelle sentenze che avevo indicato nel 2021 era che il principio dell'eco compenso non andava in contrasto con il principio della gratuità dell'incarico considerato nel caso di specie perché il principio dell'eco compenso si applica solo laddove il compenso sia previsto nel caso in cui l'incarico sia gratuito ovviamente non opera il principio dell'eco compenso e questo è quello che è previsto nell'articolo 8,2 come si va a conciliare però tale impostazione con la contrattualizzazione dell'incarico il problema che viene posto in questa prospettiva l'ho affrontato una sentenza recente del consiglio di stato 28 febbraio 2023 la sezione è la quinta e la sentenza che è molto secondo me a mio avviso è molto interessante è la sentenza 2084 del 2023 perché questa sentenza parte dagli stessi presupposti parzialmente dagli stessi presupposti della sentenza del Tar Lombardia che abbiamo visto in precedenza sentenza che se vi ricordate aveva previsto che non c'erano illegittimità nell'affidamento di un incarico di giudiziale laddove l'incarico benché l'incarico non indicasse un importo minimo quindi non prevedesse il rispetto delle tabelle professionali andando così a superare il tema del principio dell'ecocompenso diceva il Tar Lombardia il fatto se vi ricordate il fatto che nell'affidamento di un incarico non si è previsto il rispetto delle tabelle forensi di per sé è irrilevante perché il tutto è frutto di una libera contrattazione dalle parti e se fosse diversamente a quel punto le tabelle professionali di fatto verrebbero considerate nuovamente come tabelle inderogabili e quindi si andrebbe in contrasto con la disciplina prevista dalla legge che appunto prevede che queste tabelle non siano non siano non siano vincolanti il Consiglio di Stato anche a luce di una diversa prospettazione operata nel caso di specie dall'appellante fa un ragionamento diverso e cioè anzi fa due ragionamenti cosa dice il Consiglio di Stato in questa sentenza in primo luogo ribadisce la possibilità della gratuità di un incarico conferito dalla pubblica amministrazione cioè il Consiglio di Stato dice non c'è nessun problema nell'attribuire un incarico gratuito da parte della pubblica amministrazione perché come abbiamo visto il beneficio che può avere il privato il procuratore privato può andare oltre il mero corrispettivo in questo senso quindi la logica di questa sentenza si parla di fatto con la logica del nuovo articolo 8 comma 2 del codice dei contatti pubblici che appunto consente tuttora seppur in modo eccezionale la possibilità di un incarico gratuito ma la parte più interessante in realtà è legata al tema dell'eco compenso perché il punto di partenza del Consiglio di Stato anche in questa sentenza del 2023 è il medesimo delle sentenze del Consiglio di Stato del 2021 e cioè se l'incarico è gratuito non opera il principio dell'eco compenso il problema è se l'incarico non è gratuito opera o meno questo principio il Consiglio di Stato sul punto ci dice che riprendo proprio la parte la normativa sull'eco compenso sta a significare soltanto che laddove il compenso sia previsto lo stesso debba necessariamente essere equo mentre non può ricordarsi della disposizione che lo stesso debba essere sempre previsto quindi abbiamo visto in questo senso la disciplina dell'eco compenso ha completato col matto quello scarto negativo che nel tempo e a causa di svariati fattori ha provocato nel settore di liberi professioni una diminuzione di tutela per coloro che prestano attività professionale al di fuori degli schemi TPC del rapporto dipendente della tutela costituzionale salariale per cui come vi ho detto prima la scelta del professionista può avvenire anche sulla base di un incarico non gratuito ma aggiunge la pubblica amministrazione deve prevedere un meccanismo procedimentale laddove il incarico non sia gratuito deve prevedere un meccanismo procedimentale che dia i donne garanzie circa il fatto che la concretazione amministrativa sia aspirata a criteri canoni e regole di assunta imparzialità nella selezione e nelle scelte dei professionisti di modo che in questo nuovo mercato delle libere professioni nessuno abbia avvantaggiarsi a discapito dell'altro pertanto deve prescegliere le modalità pratiche ed operative più opportune che devono essere le seguenti cioè efficaci oggettive imparziali eccetera eccetera in considerazione di tariff in verbi l'appello dice da consulistato deve essere meritivo di accoglimento perché la scelta del professionista non è stata ancorata la predeterminazione di alcun criterio ne è preceduta ad alcuna procedimentalizzazione cioè il ragionamento che fa il consiglio di stato e ho quasi finito ho praticamente finito il ragionamento che fa il consiglio di stato andando così a superare in parte il ragionamento del tar Lombardia è che si basa sulla prospettazione del ricorrente il ricorrente diceva in questo caso che in realtà il problema non era tanto il mancato rispetto delle tabelle professionali ma come vi dicevo in precedenza che è un problema che si crea nella pratica è che il singolo professionista laddove riceve una richiesta di preventivo da parte dell'amministrazione totalmente disancorata qualsiasi parametro innanzitutto non ha appunto nessun criterio attraverso il quale esprimere la propria la propria la propria scelta di preventivo e in secondo luogo che in realtà la procedimentalizzazione è solo fittizia è solo formale perché poi dal punto di vista specifico in realtà l'unico criterio solettivo è il criterio del minore prezzo che però è un criterio che di per sé è incompatibile con la scelta del legale incaricato quindi in questa prospettiva in questo Consiglio di Stato in realtà che è la stessa prospettiva della Corte di Giustizia in realtà si ha un vulnus delle prorative dell'eco compenso che devono essere spettanti al libero professionista e quindi ritiene fondato l'appello promosso dal legale in questo caso in conclusione quindi quali sono le considerazioni da fare primo come vedete la situazione è molto complicata è molto in divenire il nuovo codice non è un caso non ha recepito in nessuno degli allegati codici di contatti pubblici linee guida dell'anac e quindi a questo punto devono teoricamente tenersi superate l'affidamento dei contratti che consentono l'affidamento diretto è stato rivisto in parte dal Consiglio di Stato nel nuovo codice dei contatti pubblici quindi c'è la possibilità di affidamento diretto in maniera più ampia tant'è che infatti lo stesso Consiglio di Stato dice che nel codice dei contatti pubblici di nuovo dice che in realtà l'affidamento diretto non è una procedura concorrenziale è un mera appunto un mero affidamento di un incarico di un incarico specifico in questa prospettiva quindi è da ritenersi che ad esempio la mera richiesta di preventivi nei confronti degli incarichi nei confronti dei legali interessati potrebbe creare un problema perché nel momento in cui si pone la stessa tematica che è stata posta dal Consiglio di Stato nella sentenza che vi ho citato da ultimo effettivamente l'amministrazione che si limita semplicemente a chiedere un preventivo disancorato a qualsiasi parametro potrebbe portare un problema di legittimità della richiesta rispetto alla disciplina di riferimento in particolar modo rispetto alla disciplina di riferimento in materia di ecocompenso da un lato e anche di modalità di affidamento e di criteri di riferimento dall'altro spero di aver fornito un quadro generale vedo che ci sono un po' di domande qualcuno mi chiede una pausa la pausa non serve perché ho finito infatti non c'è qualche domanda però siamo proprio allo scadere del tempo non so se è meglio che magari te le mandiamo le vedi con calma e possiamo rispondere come facciamo di solito sul sito o se vedi qualcosa di veloce non so stavo vedendo mi chiedono in realtà le slide quelle abbiamo già risposto magari verso le ultime domande mi sembra che no non mi sembra ci siano domande spero di aver fornito un quadro verso la fine se scendi ci sono alcune domande si ah scusate quindi il massimo ribasso non si può fare il massimo ribasso secondo me si può fare solo nel momento in cui viene ancorato dei parametri questo secondo me è l'insegnamento che ci viene dal Consiglio di Stato all'annuncio di nuova legge sull'accompenso abbiamo un obbligo di aggiornamento temporale delle tariffe per i vari professionisti che scordano gli effettivamente in carica è necessario in ogni caso oppure no alle richieste del codice CIG secondo me è richiesta per gli incarichi sicuramente per gli incarichi di consulenza sui incarichi legali siamo al di fuori del codice degli appalti quindi potrebbe non essere richiesta ma saprei dare una risposta immediata abbiamo un obbligo di aggiornamento temporale delle tariffe nel momento in cui l'amministrazione chiede soprattutto per gli incarichi giudiziali chiede un preventivo ovviamente lo chiede sulla base della tarifa vigente per cui sulla base del DM 55 del 2014 che prevede tutta una serie di parametri come ben sapete è aggiornata al 2018 e quello è il riferimento ancora attuale ma se un avvocato partecipa a una gara pubblica e offre un ribasso sull'importo di gara stimato sulla base del DM e il ribasso quindi inferiore ai parametri del compenso la stessa importante come si deve comportare grazie mille ecco questo è un tema molto interessante ed è un tema che in realtà non trova una risposta a livello giurisprudenziale l'ancoraggio cioè probabilmente l'unica risposta che possiamo avere e questo non ci viene però dal giudice amministrativo ma dal giudice civile ed è quello dato dalla Corte di Cassazione qui chiudo Poscana non voglio e non posso spendermi qui di tanto il quale mi cito una massima Cassazione civile numero 10.438 del 2023 e numero 9.815 del 2023 quindi sono due sentenze recentissime che ci dicono che finì la liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato così come finì la liquidazione delle spese processuali il giudice non può in ogni caso diminuire oltre il 50% i valori medi di cui le tabelle allegate quindi in realtà probabilmente l'unico parametro di riferimento è il parametro che è contenuto attualmente nella nuova versione del DM55 che consente di oscillare entro un limite che è del 50 e dell'80% se non mi ricordo male in aumento e in diminuzione rispetto alle tabelle professionali è chiaro che il problema di andare a violare il tuo ciclo dell'eco compenso c'è perché chiaramente le oscillazioni previste dal DM sono tali che in realtà creano ulteriori parametri perché se io applico le tariffe minime e poi posso scendere del 50% sulle tariffe minime di fatto in realtà potrei andare in contrasto con l'eco compenso paradossalmente quindi effettivamente il problema non è non è irrilevante però vi dico anche che non c'è una risposta da parte della giustienza a mio avviso la cosa più corretta da fare ma è una mia considerazione e ad oggi nella prassi di amministrazioni comunali molto spesso non l'ho vista mi è capitata solo una volta la cosa migliore sarebbe quella di identificare come parametro di riferimento il tariffario minimo per gli avvocati e fare una valutazione sulla base di quella di quel parametro rispetto al quale non si può scendere o si può scendere solamente di un minimo e andando a valutare però l'aspetto qualitativo perché il problema grosso è questo che ormai le amministrazioni comunali sulla base delle indicazioni ANAC si fanno delle comunicazioni delle richieste di preventivo completamente impossibili da rispondere perché a me è capitato di partecipare per esempio incarichi giudiziali nei quali ovviamente applicato i minimi tariffari ho perso e poi ho scoperto che l'incarico è stato affidato a dei colleghi che avevano offerto oltre la metà rispetto a quello che avevo offerto io però senza valutazione neanche qualitativa per cui a quel punto un professionista non dico io ovviamente ma un professionista veramente bravo che deve lavorare magari per 2000 euro 1500 euro per un incarico giudiziale a questo punto propende per andare a difendere il privato contro la politica di amministrazione quindi il rischio è proprio sistematico questo è un tema che oggettivamente deve essere considerato ecco queste sono un po' le mie valutazioni non so se ci sia un altro elenco di richieste direi che possiamo grazie di intanto comunque le raccogliamo le domande ringraziamo tutti per essere rimasti fino adesso e ricordiamo che appunto nel sito anche per chi aveva chiesto le slide nel sito di progetto all'interno della sezione materiali didattici troverà sia a breve insomma al giro di pochi giorni la registrazione che è anche su youtube della scuola Eiffel le slide che potrà scaricare e poi nel giro di breve insomma anche le risposte a queste domande che sono che sono state poste quindi grazie a tutti veramente gli argomenti sono sempre sono sempre tanti e quindi ci rivediamo per settembre dove magari rimetteremo anche in programma questi argomenti che vediamo che insomma sono di interesse sempre aggiornati sono sempre da aggiornare praticamente mi sembra vedo una domanda sui parametri qualitativi i parametri qualitativi sono possono essere ripresi sulla base delle indicazioni degli albi per cui maturità esperienza esperienza maturata capacità dimostrata da parte dell'avvocato eccetera eccetera questi sono i criteri qualitativi e qui bisogna fare riferimento poi però come diceva giustamente Voscara una risposta un po' più articolata ve la posso dare per iscritto va bene? grazie grazie a tutti e buon pranzo a presto grazie ancora grazie mille grazie a tutti grazie a tutti